Ciao, con questo nuovo video su Quadernia vedremo le diverse attività. Per inserire un'attività, come abbiamo visto nel tutorial precedente, è necessario cliccare sul pulsante Attività nella barra verticale degli oggetti. Clicchiamo quindi sull'attività e vediamo che si apre subito la finestra che ci permette di inserire e di creare le diverse attività. Questa finestra è strutturata in due sezioni divise. Nella prima sezione abbiamo a disposizione l'elenco organizzato per tipologia di attività. Vedete, geometria, attività a domande tipo test, giochi di parole, attività con immagini, ecc. Ogni tipologia ha a fianco un numero che sta ad indicare il numero di attività, di tipologia di attività che è al suo interno. Ad esempio, nella tipologia geometria abbiamo a disposizione un'attività che è Tangram. Per vedere l'elenco dell'attività all'interno di ogni tipologia è sufficiente cliccare sulla freccetta a fianco. Possiamo aprire anche più di un elenco di tipologia di attività. Vedete che in questo caso ne abbiamo aperti tre e vedremo tutte le attività a disposizione. Selezionando poi l'attività che vogliamo creare, nella seconda sezione ci comparirà il titolo, quindi il nome di questa attività e la descrizione. Poiché queste descrizioni sono tutte in spagnolo, vi mostrerò tutte le attività che possiamo inserire all'interno del nostro quaderno. Per ora, se non mi sbaglio, sono a disposizione 24 tipi diversi di attività. 24 attività diverse che possiamo creare. Iniziamo con l'attività Tangram e clicchiamo, dopo averla selezionata, su configurazione. Come vedete, sposto un attimo la finestra, l'attività oggetto occuperà tutta la nostra pagina del quaderno, quindi non potremo più aggiungere nessun oggetto diverso, come testi, immagini. Possiamo inserire per ogni pagina solo un'attività. Riprendiamo la nostra finestra dell'attività, in questo caso dell'attività Tangram, e vediamo che sono sufficienti per realizzarla tre passi. Il primo, che è il passo che ci permette di inserire le caratteristiche generali, e l'ultimo, il terzo, che è il passo che ci permette di inserire invece i messaggi di conferma, oppure i messaggi che ci dicono che non abbiamo svolto l'attività in modo corretto, sono sempre uguali. Quindi, la prima e la terza scheda le vedremo adesso, ma poi, nelle attività successive, andrò molto velocemente su queste schede, perché quello che ci interessa è la seconda scheda, che è la scheda che caratterizza ogni tipo di attività. Quindi, è proprio in questa scheda che andremo ad inserire le specifiche delle diverse attività. Allora, la prima scheda, come vi dicevo, ci permette di inserire il titolo, quindi cliccando nel campo bianco sotto a titolo, possiamo scrivere a tastiera, ad esempio, Tangram. Nel secondo campo bianco, invece, possiamo scrivere le istruzioni, sempre cliccando sul campo, ad esempio, si fa così. Ovviamente, non scrivo nel dettaglio le diverse attività, perché poi le creerete voi, vi farò vedere solo la tipologia di attività. Poi, sotto, invece, possiamo specificare il tempo, quindi cliccando sulla freccia, ci comparirà un elenco a tendina, all'interno del quale potremo selezionare da illimitato a 5 secondi, 10 secondi, fino a 5 minuti. Quindi, possiamo decidere quanto durerà la nostra attività. Se selezioniamo, ad esempio, 5 secondi, dopo i 5 secondi, ci comparirà il messaggio di fine attività e ci dirà se abbiamo fatto giusto o sbagliato. Oltre al numero di tempo, scusate, oltre alla quantità di tempo, abbiamo anche a disposizione il numero di tentativi, intentos. Sempre cliccando sulla freccia che ci farà comparire il menu a tendina, possiamo scegliere tra 1 a 10 tentativi o anche illimitati, esattamente come il tempo. Anche in questo caso, chi gioca avrà a disposizione un numero da 1 a illimitato di tentativi e, finito questo numero di tentativi, non potrà più rifare l'attività. Dopo aver deciso, quindi, di aver specificato titoli, istruzioni, tempo e tentativi, possiamo cliccare sulla freccia verde siguiente per passare alla seconda scheda, che, come vi dicevo, è quella specifica per ogni attività. In questo caso, infatti, visto che stiamo parlando di un tangram, avremo a disposizione le diverse figure. Quindi possiamo cliccare sulle miniature delle diverse figure e selezionarne una. Questa sarà la figura che verrà completata se avremo disposto in modo corretto tutti i pezzi del tangram. Selezionata la figura, che come vedete è quella con il bordo viola, clicchiamo su siguiente, che ci riporterà alla terza scheda, che, come vi dicevo prima, anche questa è comune a tutte le attività, e vediamo che è divisa in due sezioni, una verde e una rossa. Nella sezione verde possiamo inserire un messaggio di testo e un messaggio sonoro che dicono a chi gioca che ha svolto in modo corretto l'attività. Nella sezione rossa, invece, possiamo inserire un messaggio di testo e anche qua un messaggio sonoro per dire a chi gioca che non ha svolto in modo corretto l'attività. Per inserire il testo è sufficiente cliccare sempre nel campo bianco e scrivere il nostro messaggio, ad esempio, bravo, oppure se si tratta della sezione rossa possiamo scrivere hai sbagliato, e per quanto riguarda il suono invece ovviamente non possiamo scrivere nei campi bianchi, ma possiamo attraverso la lente di ingrandimento sulle note, buscar, ricercare il suono che vogliamo inserire. Possiamo cercarlo sia all'interno dei suoni che sono già a disposizione all'interno dei quaderni che abbiamo salvato, oppure, come per tutti gli altri file, subir, quindi caricare un suono, un mp3. Possiamo anche sentire, stoppare e mettere in pausa il suono, quando avremo trovato quello che ci soddisfa possiamo cliccare su accettare. Così, come vi dicevo, anche per il messaggio che fa capire a chi gioca che ha sbagliato. Ne selezioniamo un altro, in questo caso, e accettiamo. Benissimo, abbiamo concluso la nostra attività perché abbiamo completato tutte e tre le schede, quindi clicchiamo su accettare. Nel nostro quaderno, in modalità creazione, non comparirà l'attività, ma comparirà il titolo, il tempo e il numero di tentativi. Per vedere l'attività, andiamo su Anteprima, nella finestra orizzontale Amministratore, che ci permette di vedere l'anteprima dell'attività, in particolare la pagina in cui abbiamo inserito la nostra attività. Clicchiamo su Iniziare, vedete che c'è la nostra attività, il tempo, il numero di tentativi, il titolo, e sulla destra avremo il menu che ci permette di andare a vedere la soluzione, di leggere le istruzioni, oppure di ricominciare. Quando ricominciamo, sempre nel menu a destra, avremo a disposizione anche il pulsante Iniziare. Chiudiamo la modalità visualizzazione e torniamo alla modalità creazione per inserire la seconda attività. Andiamo quindi nella seconda tipologia di attività, che è l'attività di domande tipo test. Quindi andiamo su Preguntas, domande, e configuriamo. Inseriamo sempre titolo, istruzioni, tempo e tentativi, e clicchiamo su Siguiente. L'attività Pregunta, domande, ci permette di inserire delle domande e un numero di risposte tra le quali scegliere. Quindi è sostanzialmente una domanda con risposta a scelta multipla. Nella prima sezione della seconda scheda, Texto Pregunta, inseriamo il testo della domanda. Nella seconda parte, invece, inseriremo le risposte. Quante risposte possiamo inserire? Possiamo scegliere, attraverso il menu a tendina, al quale possiamo accedere dalla freccetta, da due a sei risposte. In questo caso ho selezionato due, quindi avremo due campi, all'interno dei quali, cliccando sempre, possiamo inserire le diverse risposte. Poi selezioniamo la risposta che è quella esatta, facendo una spunta nel quadrettino di fianco alla risposta esatta. Io ho completato i diversi campi. Che tipo di attività è questa come domanda? La prima risposta, domanda con risposta a scelta multipla, la seconda a tangram. Ovviamente ho fatto una spunta a fianco della prima risposta. Clicchiamo su Siguiente e avremo sempre la terza scheda all'interno della quale possiamo aggiungere i diversi messaggi e poi accettiamo. Andiamo a vedere la nostra anteprima sulla domanda con risposta multipla. Iniziamo l'attività, vedete che abbiamo la nostra domanda e le due risposte. Possiamo cliccare, Comprobar, quindi Verificare e avremo il messaggio che ci dice che la nostra risposta è corretta. Proviamo a ricominciare per vedere che se clicchiamo invece sul tangram, che è la risposta sbagliata, e verifichiamo, non avremo in questo caso nessun messaggio perché non l'ho inserito, ma non ci dice nemmeno che è la risposta corretta. Andiamo nella terza pagina per inserire la terza attività, che fa sempre parte dell'attività tipo test, ma in questo caso è un'attività di identificazione. Se per l'attività per Guntas avevamo la possibilità di inserire una domanda e più risposte, per l'attività di identificazione avremo la stessa possibilità, quindi di inserire una domanda e più risposte, ma le risposte non saranno testo, bensì immagini. Andiamo a configurare e vediamo quindi la differenza. Saltiamo sempre la prima scheda e andiamo, infatti, nella seconda scheda e vediamo che è esattamente come l'attività precedente. Abbiamo la possibilità di inserire la domanda e di selezionare il numero di risposte, in questo caso però non da 2 a 6, ma da 2 a 12 risposte. Lasciamo sempre 2 come risposte e vediamo che abbiamo dei campi all'interno dei quali però non possiamo cliccare, perché, come vi dicevo, non abbiamo a disposizione dei campi di testo, ma dei campi all'interno dei quali inseriremo delle immagini. Quindi inseriamo la domanda e al posto delle risposte, attraverso Buscar, quindi sempre la lente di ingrandimento, andiamo a cercare le nostre due immagini. accettiamo, dopo aver selezionato l'immagine, lo stesso per il secondo campo. In questo caso io ho scelto di inserire un tram e un aereo, perché la mia domanda è quale di questi mezzi può volare. La seconda immagine è quella dell'aereo avion e selezionerò quindi questa come immagine corretta, come la mia risposta corretta. Clicchiamo su Siguiente, accettiamo anche per la terza scheda e andiamo a vedere l'anteprima. Clicchiamo su Iniziare e vedete che abbiamo ancora una volta la nostra domanda, più di una risposta possibile e quadrettini di fianco alle risposte. In questo caso però le risposte non sono testo, ma immagini. Selezioniamo l'aereo e verifichiamo infatti che è la risposta corretta. Torniamo alla modalità Creazione per vedere la quarta attività. Allora, geometria e attività di tipo test le abbiamo già viste, andiamo ai giochi di parole. Il primo è la Zuppa, la Zuppa di lettere. La Zuppa di lettere è il tradizionale quadrato di lettere all'interno delle quali dobbiamo cercare delle parole indicate in un elenco. Allora andiamo a vedere, selezioniamo Zuppa, Configuration e andiamo a creare la nostra attività. Ovviamente, come sempre, salto la prima scheda e andiamo direttamente alla seconda. Dove abbiamo a disposizione uno strumento che ci permette di agnadire palabra, quindi di aggiungere una parola. All'interno di questo campo, cliccando, possiamo scrivere una parola. Scrivo proprio esempio e con il più, cliccando, possiamo andare ad inserirlo all'interno della lista di parole. Vedete che è stato aggiunto. Se fosse una parola che non vogliamo più all'interno della nostra lista, possiamo cliccare su meno per toglierla. Vedete che non ci sono più parole. Vedete che ho aggiunto alcune parole, in particolare sono dei frutti, quindi sarà una Zuppa di lettere che riguarda i frutti. Poi possiamo andare a selezionare le dimensioni del nostro quadrato, quindi il numero di file e di colonne. In questo caso sono selezionate 17 file e 17 colonne, ma cliccando sulla freccetta separerà la solita finestra a scorrimento, all'interno della quale possiamo scegliere tra 16 fino a 20 file e 6 e 20 colonne. Quindi, selezionato il numero di colonne e di file, possiamo procedere. Clicchiamo sempre su Siguiente, accettiamo per andare a vedere la nostra anteprima. Clicchiamo su Iniziare, vedete che è un quadrato di lettere all'interno del quale possiamo cercare qualcuna di queste parole. Sarà poi sufficiente tenere premuto e far passare il cursore su tutte le lettere della parola per eliminarla dall'elenco e passare alla successiva. Abbiamo sempre a disposizione la soluzione, vedete che le parole possono essere in verticale, orizzontale oppure anche in diagonale. Passiamo alla prossima attività che è sempre un gioco di parole ma in questo caso è un crucigramma, quindi un cruciverba con le immagini. Ci sarà anche il cruciverba di testo, lo vedremo dopo e andiamo direttamente alla configurazione. Passiamo alla seconda parte all'interno della quale possiamo scegliere il numero di parole da fare individuare, quindi visto che è un cruciverba di parole avremo la definizione grafica attraverso l'immagine e chi gioca dovrà scrivere il nome dell'immagine, la parola che c'è nell'immagine. Come vi dicevo, possiamo selezionare il numero di parole da 2 a 10 parole, quindi con le relative immagini. L'aiuto, vedete che non possiamo scrivere niente all'interno del campo perché clicchiamo su Buscare, Ricercare e selezioniamo sempre il nostro oggetto, quindi la nostra immagine. Scelgo ad esempio il papavero e scriverò come parola appunto papavero che sarà la parola che dovrà essere ricercata. Seconda parola, andiamo sempre a cercare la nostra immagine e a selezionarla ad esempio gli scacchi e scriviamo cliccando con un clic all'interno del campo bianco scacchi. Andiamo a creare la nostra attività e a vederne l'anteprima. Iniziamo l'attività vedete che abbiamo a disposizione due spazi uno con un cruciverba vero e proprio e l'altro con le definizioni. possiamo selezionare le varie definizioni ne abbiamo due e ci comparirà l'immagine che funziona quindi da definizione ad esempio l'immagine del papavero e andremo a scrivere casella per casella le lettere. possiamo ritornare possiamo ritornare su un campo per eliminare la lettera e riscriverla e verifichiamo vedete che si è illuminata di verde perché è esatta e così via. Andiamo a vedere poi la stessa attività che come vi dicevo è sempre un cruciverba all'interno del gioco di parole ma è un cruciverba di testo quindi ci saranno delle definizioni e poi una soluzione che sarà composta da una sola parola andiamo alla pagina numero due vedete in questo caso l'aiuto quindi aiuda non è più un campo di ricerca di un'immagine ma è un campo all'interno del quale possiamo scrivere un testo una frase una definizione ad esempio fiore rosso e in questo caso sì che la parola da trovare potrà essere papavero ma vedete che non abbiamo più l'immagine ma una definizione il numero di parole è sempre selezionabile da 2 a 10 in questo caso lasciamo 2 e potremmo scrivere ad esempio fiore giallo non è particolarmente creativo e scriviamo girasole andiamo alla creazione della nostra attività e all'anteprima iniziamo l'attività dove vedremo sempre come abbiamo visto nell'attività precedente le due sezioni in cui inserire le parole quindi la risposta è esatta oppure nella seconda sezione guardare qual è la definizione che abbiamo dato la prima come vi ricorderete era fiore rosso quindi scriviamo anche in questo caso papavero possiamo andare a sistemare nel campo quindi possiamo fare delle correzioni sempre cliccando sul campo apposito e passare alla seconda definizione possiamo poi verificare e si illuminerà sempre di verde chiudiamo e guardiamo l'ultima attività che riguarda i giochi di parole in questo caso è una parola segreta vedremo che è un anagramma andiamo a configurarla saltiamo sempre la prima pagina andiamo nella seconda all'interno della quale possiamo inserire una parola tutto quello che dobbiamo fare quindi è inserire la nostra parola ovviamente inseriamo la parola papavero clicchiamo su seguente andiamo a creare la nostra attività anteprima iniziamo la nostra attività vedete che abbiamo a disposizione come nell'impiccato io ho dato la definizione di anagramma ma non era esatta è un impiccato quindi andiamo a selezionare le diverse lettere se queste sono presenti nella nostra parola compariranno nei campi che sono in alto cerchiamo ad esempio una lettera che non compare vedete la U in questo caso non succede niente perché non compare completiamo la parola e vediamo che vinciamo il gioco perché abbiamo fatto tutto in modo corretto quindi mi correggo l'attività scusate l'attività a orcado quindi gioco di parole parabra segreta non è un anagramma ma è il gioco dell'impiccato abbiamo visto le prime tre categorie di giochi geometria attività di test di parole domande e giochi di parole le tipologie di attività seguenti le vedremo nella seconda parte del video l'impiccato l'impiccato